Bilancio di previsione approvato dall'Aggiunta, non concordato da alcuni, adesso arriverà in Consiglio Comunale. Sì esatto, questo è il bilancio dell'azzeramento ai fondi alla cultura e quindi noi pensiamo anche che ci debba essere un azeramento dello stipendio dell'assessore Luca Antoni che a questo punto diventa ancora più inutile. Ovviamente non è stato concertato con alcuni esponenti della maggioranza, alcuni dissidenti. Noi speriamo che se rimane un briciolo di onestà intellettuale a questi dissidenti dovrebbero votare contro questo bilancio che è solo fatto di mosse di facciata, mosse politiche, nasconde diversi tagli sia alla cultura e sia alle manutenzioni, vogliono ulteriormente indebitare il Comune allungando due mutui per rifare gli asfalti, ovviamente dichiarando apertamente che non hanno fatto i tagli che dovevano in passato e quindi adesso sono arrivati a questo punto a dover indebitare ulteriormente il Comune per recuperare alcuni soldi che sono stati sprecati in precedenza. Per Alfonso Di Sabatino Martina, del gruppo civico Teramo Soprattutto, il bilancio di previsione del Comune nasce con un macroscopico vizio politico. Secondo l'ex vice sindaco, che nella passata consigliatura aveva proprio la delega alle finanze, l'adozione del documento contabile da parte della Giunta avrebbe dovuto seguire e non precedere l'imminente chiarimento interno alla conizione, da cui dipende la sopravvivenza dell'amministrazione.